Sabato 15 e domenica 16 aprilio al Palavesuvio di Ponticelli torna a SEBS, la fiera dello sport più grande del meridione. Quattro aree, fitness, sport, salute, danza ed una sezione dedicata ai convegni accoglieranno il pubblico durante il weekend con tante iniziative, corsi di diverse discipline sportive e stand per informare sui corretti stili di vita. 15 e 16 aprile, sabato e domenica prossima ci saranno due giornate davvero di festa dello sport dove sarà possibile provare e praticare tantissimi tipi di sport. Quindi invitiamo tutti quanti a essere presenti ed è importante che una manifestazione del genere, ma è quello che stiamo facendo da più di un anno, si faccia in una municipalità come quella di Ponticelli e in una struttura sulla quale davvero stiamo puntando. Nel villaggio dello sport allestito presso il complesso di Ponticelli sarà possibile allenarsi e partecipare alle attività organizzate da enti e federazioni con la possibilità di ricevere consulenze, effettuare visite mediche ed esami oppure aderire a campagne di prevenzione. Una manifestazione dove si promuove lo sport per la salute, quindi per il benessere fisico, per stare bene, dove chiaramente lo sport è un momento anche di aggregazione. Ho visto che ci sono molte discipline, si propone lo sport come modello di vita, come stile di vita. All'appuntamento con la Fiera dello Sport sarà presente anche uno stand dell'Asla Napoli 1 per sensibilizzare la cittadinanza sulla sana alimentazione ed incentivare la pratica sportiva contro la sedentarietà. All'appuntamento con la Fiera dello Sport